Nella pagina di compilazione del modello di presentazione della domanda si trovano anche il modello F, qua in giù come vedete, e il modello H, ancora più sotto del modello F. Questi due modelli sono importanti se, per esempio, la compilazione del modello F, che è facilissima, servirebbe per rinunciare alla gradatoria come contratti a tempo determinato, cioè per le supplenze, e varrebbe solo come contratti a tempo indeterminato per il ruolo. E dunque, se uno vuole rinunciare alle supplenze, vuole stare in queste gradatorie solo per avere l'opportunità di entrare in ruolo, va in azioni disponibili, fa inserisci, clicca sul profilo assistente amministrativo, in questo caso l'aspirante, selezionando il presente profilo, avendo titolo a permanere oppure a inserire o aggiornare la gradatoria, permanente, dico, questa provincia dichiara di non essere interessato all'attribuzione dei lavori a tempo determinato. Si fa inserisci e si diviene inseriti in questo modello F. Quindi, una volta compilato il modello F, vedete, modello F aggiornato con successo, si va a vedere come funziona eventualmente, se abbiano delle precedenze per la legge 104, il modello H. Il modello H è un modello proprio riservato a chi ha da assistere a un genitore oppure l'assistenza a un fratella, a una sorella in stato di gravità o che ha una disabilità personale. Per compilare il modello H basta andare su azioni disponibilità, si fa inserisci e vedete che qui abbiamo le prime due voci, sono riferite a una autodichiarazione per disabilità personale. Nel caso dell'articolo 21 abbiamo un'invalidità superiore ai due terzi, cioè almeno del 67%, e oltre all'invalidità civile l'articolo 3,1, almeno articolo 3,1 della legge 104. Se si è in una situazione di questo tipo si flagga quest'area, altrimenti quest'altra è una disabilità, articolo 33,6, personale e riferita a uno stato di gravità, articolo 3,3. In quest'altro caso si flagga questo, si può flaggare uno dei due o anche entrambi. Facciamo conto di avere un articolo 3,1 e i due terzi superiore ai due terzi di invalidità, articolo 21. Una volta fatto questo si scende in basso e queste altre voci sono riferite all'assistenza, l'articolo 33 della legge 104,5,7, assistenza al figlio, assistenza nel caso al fratello, alla sorella, o in caso al coniuge o al genitore. Noi andiamo nel caso specifico dell'articolo 21. Attenzione, è obbligatorio e molto importante inserire il file del verbale di accertamento della commissione medica per l'invalidità e per l'articolo 3,1 o l'articolo 3,3 o l'articolo 21, cioè l'invalidità superiore ai due terzi, o lo stato di gravità appunto, o l'invalidità con lo stato di gravità del genitore. Si inserisce qui, dopodiché si fa inserisci e il modello H è preparato. Speriamo che questo video tutorial sia utile agli aspiranti che hanno una situazione di 104 o di 104 come assistenza o di 104 personale. Un saluto a tutti e grazie. Grazie a tutti.